paparapà e rieccomi qua erica corvo la vostra wc comedian wc comedian la camaretista d'accesso per le battute più di merda un'altra bella pubblicità che ho visto comprare enciclopedia tre cani sulla storia dei papi avrai in regalo il conclave e papa francesco avrai in regalo il conclave papa francesco ma mucchio di gente dove li metto tutti quanti a casa mia quelli su tanti quelli bagnano oltretutto poi pregano tutto il giorno fanno un casino bestiale ti rompono le palle con gesù cristo dalla mattina alla sera peggio che se tu avessi vinto una riunione dei testimoni di geova tutti a casa tua per tutta la settimana altro che solo la domenica mattina ma che scherziamo ma ti entra la enciclopedia non la voglio neanche se me la paghi tu ciao 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 ciao